Buongiorno, come ti chiami? Mi chiamo Giuliano. Mario. Stefano. Barbara. Giada. Luca. Come sei entrato nel mondo del lavoro? Dopo la laurea, ho subito tentato vari concorsi. Nel 1978, era cenozoica. Durante la mia tesi di laurea, alla discussione era presente un professore che mi ha poi alla fine dell'argomentazione offerto una borsa di studio. Ho subito dopo il diploma nel 1976 ed ho lavorato, ho fatto vari lavori. Sono entrata appena dopo il diploma in un'azienda privata e poi trasferendomi qui da Milano con un concorso 28 anni fa per quello che al tempo era l'Istituto Trentino di Cultura. Subito dopo la maturità, ho finito gli studi, ho trovato lavoro in un supermercato e intanto cercavo nel mio settore. Finché dopo mesi ho trovato. Circa due anni fa, quindi 18 anni. Ho partecipato a un camp estivo di FBK che si chiama Web Valley per studenti da tutto il mondo e questo mi ha permesso di entrare nella Fondazione Bruno Kessler. Di che cosa ti occupi attualmente? Attualmente sono direttore presso la provincia autonoma di Trento. Attualmente sono in staff del direttore del centro materiale e microsistemi di FBK e mi occupo di technological scouting e trasferimento tecnologico. Oggi mi occupo di packaging. Attualmente mi occupo di comunicazione, sono responsabile dell'unità comunicazione ed eventi della Fondazione Bruno Kessler. Di grafica e comunicazione. Sono un software developer nell'area scientifica. Se potessi dare un consiglio ai tuoi colleghi più giovani, che cosa diresti loro? Di acquisire pluralità di competenze. Diciamo che la preparazione è importante, la fortuna è trovare l'opportunità altrettanto, ma penso che la prima sia decisamente più importante. Continuare a studiare, continuare ad interessarsi, ad essere soprattutto curiosi. Di sperimentare, di tenersi costantemente informati. Se potessi dare un consiglio ai colleghi più anziani? Forse potrebbero ascoltare di più noi giovani, perché spesso possiamo avere una soluzione che magari non ci hanno subito pensato, o qualche idea un po' più fresca. C'è qualcosa che invidia i tuoi colleghi più giovani? Paradossalmente, forse sarebbero loro che dovrebbero invidiare me, date le condizioni che giudico meno favorevoli rispetto a un tempo nella fase di ingresso. A parte l'età? No. Invidio loro la freschezza, la capacità di adattarsi alle nuove situazioni, al saper comunicare in diverse lingue, per esempio. Quello che ora è la grande disponibilità di strumenti a disposizione. C'è qualcosa che invidia i tuoi colleghi più anziani? Forse la serenità con cui loro hanno trovato lavoro. C'è qualcosa che non invidia i tuoi colleghi più giovani? Non invidio il fatto che oggi si entra in amministrazione in modo più competitivo. Dato il blocco del turnover, oggi la resa del dipendente deve essere immediata, la pressione è certamente più forte e quindi le difficoltà iniziali possono essere maggiori. Forse il diminuito senso di appartenenza all'istituzione? Il fatto che loro non hanno la possibilità di trovare un lavoro così sicuro. Non sicuro nel senso continuativo, ma che ci sia la possibilità di lavorare con continuità. Non invidio per quanto riguarda la realtà italiana una precarietà che di fatto segna pesantemente la loro formazione, la loro sviluppo lavorativo, le loro prospettive di vita. Una parola, precarietà. Che cosa significa per te? Precarietà è quella che vedo attorno, nel senso di possibile creazione di rapporti di lavoro anche in pubblica amministrazione di natura sempre più temporanea, ma anche diciamo di una certa insicurezza. In realtà la differenza tra loro e adesso era l'aspettativa. Quando ho cominciato io c'era una forte aspettativa di poter proseguire, migliorare, perché le condizioni al contorno erano favorevoli. Temo che non sia più così, soprattutto perché intraprende questa carriera. Precarietà significa non avere a disposizione il minimo indispensabile per poter vivere tranquillamente. Qualcosa che sta sospeso, qualcosa che non si conclude, che inizia e non si conclude. È una sensazione, se poi la penso da un punto di vista lavorativo, che non dà prospettiva e che nell'accezione purtroppo, come dicevo, dei tempi nostri, è assolutamente legato a una non conclusione, a una non realizzazione. Diciamo che per ora la precarietà non mi spaventa, perché nel lavoro dello scienziato comunque è facile dover cambiare lavoro, cambiare posto, può essere interessante proprio avere la possibilità di spostarsi e probabilmente è più facile avendo dei contratti a tempo determinato. Mi sento molto fortunato di essere entrato nel mondo del lavoro e di riuscire a portarlo avanti insieme agli studi. Senza dover che gli studi ne risentano. Precarietà vuol dire che ti alzi la mattina e non hai uno scopo nella giornata. Non hai la possibilità di vivere, di guadagnare, di anche solo sopravvivere. Precarietà vuol dire sentirti in nulla, sentirti inutile in una società che comunque va avanti senza di te e tu non hai la possibilità di costruire nulla e perdi anche quel poco che hai. Credo che tutti i ragazzi di adesso non vedano molto bene il loro futuro, perché senza lavoro non c'è vita. Grazie. 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 Grazie.